Intanto Di Pietrantonio, un grazie credo che sia la prima parola che lei debba pronunciare questa mattina. Intanto voglio ringraziare tutti coloro i quali sono andati nelle edicole ad acquistare un giornale, a poi a ritagliarlo e a scrivere un nome, in questo caso tantissime persone, 3600 hanno scritto il mio nome e non posso che ringraziare tutti, ma voglio ringraziare anche il quotidiano, il centro che ha avuto questa bella idea di partecipazione, ha colto nel segno perché ha evidentemente individuato questa voglia da parte dei cittadini di partecipare, una voglia di partecipazione che assomiglia, fa il paio un po' con quello che noi come partito abbiamo lanciato già qualche anno fa, che erano le primarie e soprattutto credo che sia stata messa in evidenza un riavvicinamento a livello locale, quantomeno, da parte dei cittadini sulla vicenda politica, in particolare sulla scelta del sindaco e della prossima amministrazione che dovrà guidare una città come Pescara, la città più grande d'Abruzzo. Non posso che dire grazie, sicuramente è un gioco, ma molto significativo e indicativo, io credo che su questa strada sicuramente si potranno fare anche altre iniziative sempre di maggiore partecipazione perché poi è quello che evidentemente i cittadini vogliono.